vieni pepita vieni eccola ma come sei bella ecco l'attrazione l'attrazione dell'agroturismo bellissima pepita stamani che signorina belle sono amici il cane con pepita sono amici veramente troppo bellina eh infatti la mattina lei viene qui con lui andando a fare il suo girettino vada vada come vieni venite ma come siete bravi stamani